Io non ho voluto citare il femminile come genere, ma perché nell'assenza totale, non solo del panorama italiano, indica il coraggio che l'artista ha dovuto esprimere in questi anni e in questi decenni per fare la sua ricerca. E ricollego questo coraggio non solo alla scelta, come dire, amplissima dei materiali, ma anche, per esempio, al titolo che dà a quest'opera di cui stiamo parlando oggi per presentarla. Credo che pochissimi artisti del genere maschile avrebbero usato intitolare una loro opera in modo simile all'opera di Boccioni. La Carlini non lo fa perché è arrogante, io credo che lo fa esattamente perché è consapevole, perché non trova nulla di disdicevole in questo, non si confronta, ma esprime una sua considerazione sull'opera che ha creato. Grazie a tutti.